Ciao a tutti ragazzi e bentornati e bentrovati sul canale di Times Gadget. Oggi in questo nuovo video andiamo a vedere finalmente le tanto attese richieste cover trasparenti slim per il Note 9. Ve l'avevo già promesso nella recensione che ho fatto precedente del Whitestone Dome Glass, che ce l'ho qui installato a bordo, così andiamo a vedere anche la compatibilità, ma anche se già l'abbiamo vista con le altre cover precedenti. Dico tante richieste perché ho ricevuto davvero tante veramente richieste proprio da parte di voi utenti di andare a scegliere, a recensire, ma anche a raggruppare le migliori cover trasparenti slim per questo nuovo Note 9. Io diciamo che in verità vi capisco anche perché mai come quest'anno, come con questo Note 9, sto utilizzando davvero tanto le cover trasparenti. Io non sono mai stato un grande fan di queste cover, molti di voi sicuramente lo sapranno, sono sempre stato un fan delle cover più rugged e più sportive, ma devo dire, devo ammettere che questa colorazione quest'anno, questo blu di questo Note 9, è davvero bellissima e anche io soffro quando la vado a coprire. Ed ecco il motivo per cui ho cominciato un po' a selezionare le cover migliori, trasparenti, è perché le utilizzo tanto, perché è davvero un peccato andare a coprire questo bellissimo design e questa bellissima colorazione. Quindi spero di fare una cosa gradita anche per voi andandovi a selezionare una serie delle migliori cover trasparenti per lasciare a vista questa fantastica colorazione, ma anche per rendere il device leggermente più maneggevole e più gestibile con la mano, perché sono tutte cover molto, molto slim. Prima di partire, per andare a vedere la nuova cover, vi dico già che tutte le cover e i propri prodotti che farò vedere in questa recensione trovate il link qui sotto in descrizione. Sono tutte acquistate su Amazon, quindi senza alcun tipo di problema. Vabbè, qualsiasi altro dubbio, informazione, lo sapete, sono qui a vostra disposizione. E per quanto riguarda i prezzi, non mi ricordo tutti ragazzi, quindi se nel caso vi dico il prezzo di qualche cover e di qualche altra no, non me ne odiate, ma delle volte non mi ricordo proprio tutti i prezzi esatti. Detto questo però, partiamo subito con la prima cover. La prima cover dell'otto è la ringhe Fusion, una ringhe che mi ha stupito positivamente e mi è stata consigliata proprio da un utente. Io non sono un grande fan di questa azienda perché le cover che ho provato precedenti della ringhe non mi sono piaciute poi così tanto perché delle volte sono un po' troppo plasticose. Invece mi sono trovato bene proprio con questa ringhe Fusion, me ne sembra che si chiami X, non mi ricordo poi bene il nome, comunque i link li trovate qui sotto anche perché è l'unica della ringhe. Mi sono trovato bene con questo modello anche per quello, per il LG G7. Non mi è dispiaciuta affatto, molto molto bella. Una cosa che ho apprezzato di questa cover è che, ok, adesso è un po' sporca, ma è solo polvere che è andata a finire in questi giorni che non ho utilizzata, però devo dire che è una cosa che mi è piaciuta e che non trattiene tanto le impronte. Oltretutto è una delle poche, se non l'unica, una delle poche sì, non l'unica, ci sono anche qualche altro modello, che l'azienda ha pensato bene di abbinare le colorazioni delle proprie cover con il Note. Noto che quest'anno abbiamo il Note, questo blu che è stato vendutissimo, hanno pensato bene di creare delle cover abbinate, quindi abbiamo tutta la parte trasparente ma con il bumper intorno blu. Altra cosa che ho apprezzato è che pur avendo un bumper molto sottile tra semi trasparenti, abbiamo comunque rinforzi su tutti e quattro gli angoli, quindi tutti e quattro gli angoli sono rinforzati e vanno decisamente a proteggere abbastanza bene il device da cadute e da urti. I pulsanti spingono benissimo, abbiamo solamente qui il brand piccoletto, qui a fianco dell'azienda, poi non abbiamo altri tipi di scritte o di brand, quindi molto molto pulita. Un'altra cosa che mi è piaciuta è che con questa cover vi esce anche gratuito nella confezione questo simpaticissimo laccetto da colso. È un laccetto che forse molti di voi sarà inutile, ma per alcuni casi è anche comodo, non solo per attaccare la cover, perché la cover è predisposta con questi forlini per essere attaccata con il laccetto, ma vi può essere utile anche come portagliavi o per qualsiasi altra cosa, per qualsiasi altra funzione. È molto bello perché è bianco e grigio, purtroppo non è abbinata alla cover e abbiamo chiaramente qui il brand dell'azienda, perché è tutto marcato rinche. Detto questo però andiamo a pulire il device, perché qui la pezzetta è d'obbligo in questo caso per andarla a pulire, non tanto per andare a pulire la cover, perché in modo tale che vi identiate conto almeno di quanto trattiene le impronte, ecco perché non ve la pulisco delle volte nella parte esterna, ma ve la pulisco solamente nella parte interna e vi pulisco però a fondo il device, in modo tale vi potete rendere conto di quanto trattiene le impronte. Allora io vi vado a fare qualche editato, vi dobbiamo mettere qualche editato sul device ed ecco qui che vi potete rendere conto di quanto si vada a sporcare questa cover. Ok sì, si va un po' a sporcare, trattiene un po' le ditate, però credetemi rispetto a tante altre cover si confonde molto molto di più, molto molto bene. Devo dire quest'anno molti di questi case non trattengono tanto le impronte ed hanno un buon sistema oleofobico. Chiaramente qui il bordo, il foro per la fotocamera è fatto bene, ci si arriva senza problemi sul sensore di impronte, i pulsanti spingono bene, abbiamo anche una protezione per lo schermo e guardate qui quanto è alto questo bordo. Con tutto che ho installato il Whitestone Down Glass il bordo riesce a essere ancora più alto, quindi nessun tipo di problema per quanto riguarda la protezione anche anteriore del display. Per quanto riguarda i fori sotto si spingono bene e si va a tirare anche fuori bene senza problemi il pennino, anche se non abbiamo un grande spazio tra la parte laterale, perché ve lo faccio vedere qui è leggermente più alto di la 3 case, però comunque devo dire si utilizza benissimo. Anche la porta USB Type-C si lascia utilizzare con le penne OTG, quindi nessun tipo di problema sotto questo punto di vista. Devo dire una cover che promuova pieni voti perché mi è piaciuta per il suo design, per la sua trasparenza, per la sua possibilità di abbinarla al device che acquistate e soprattutto perché anche trattiene poco le impronte ed è resistente al tempo stesso. E altro punto molto importante che costa solamente 9,99€, quindi un prezzo davvero ridottissimo. Vi lascio i link tutti qui sotto in descrizione, come ho detto in precedenza. Ve lascio i minuti e passiamo subito alla prossima. Prossima serie dell'otto, passiamo invece a un'altra serie ormai classica che ho esenzito anche per altri device, ma era con il bordo nero, parliamo della Spigen Ultra Hybrid. È un altro modello che anche quest'anno si riconferma farà le migliori sul mercato perché devo dire trattiene davvero pochissimo le impronte. Ve la vado a pulire in modo tale ve la faccio vedere e quanto riesco a trattenere le impronte una volta che è tutto pulita. Una cosa che mi è piaciuta poco di questo case rispetto agli altri modelli in primis rispetto al Rinke è che non abbiamo la possibilità di scegliere il bumper colorato, quindi inabbinato con il telefono. Su questa serie abbiamo la possibilità solamente di scegliere la Ultra Hybrid tutta trasparente in questa maniera oppure con il bumper nero opaco. Non abbiamo altri tipi di varianti. Però mi è piaciuto perché è totalmente trasparente e come vi farò adesso vedere non trattiene tanto le impronte. Vi vado a ripulire il telefono in modo tale che possiamo fare poi il test ed è sicuro che siano le impronte esterne della cover e non quelle del telefono interne. Fra le cover di questo lotto questa qui le tengo fra le più resistenti. Questo qui perché tutto il bumper intorno è costituito all'interno, ha integrato un sistema di assorbimento con i cuscinetti d'aria ed è una delle poche ad avere in Military Grade certificato, quindi approvato, quindi resistente agli urti e cadute. Non mi ricordo i metri, non mi ricordo in particolar modo quanti metri, però dovrebbe essere un paio se non sbaglio. Di solitamente in Military Grade le certificazioni militari base arrivano e partono da un paio di metri. Vi vado a pulire anche la parte esterna e vi faccio vedere quanto trattiene le impronte. Vi vado a mettere un po' di impronte, vi vado a lasciare e facciamo questo test. Vedete? Anche qui si rietano chiaramente un po' su tutte, però devo dire forse qui vengono anche saltate dalle luci e dalla fotocamera, ma dal vivo si comporta molto molto bene. Un'altra cosa che mi preoccupa di questo case è che con il tempo questo bordo essendo totalmente trasparente si va un po' ad ingiallire, perché forse questo qui è l'unica pecca che ha questa cover. Anche qui i bordi sono leggermente riazzati, però vi devo dire la verità, qui arrivano quasi al filo del vetro, molto più passi rispetto alla linca. I pulsanti anche qui si vanno a utilizzare benissimo, non abbiamo alcun tipo di problema, ma diciamo che i pulsanti si utilizzano bene su tutte le cover che poi vi farò vedere. Anche nella parte posteriore, fatta molto molto bene, studiata davvero molto bene, sia per quanto riguarda i connettori, non abbiamo nessun tipo di problema nell'utilizzare il jack e la porta USB da XE con le penne USB per la quali dovete utilizzare la OTG e non abbiamo nessun tipo di problema neanche per andare a togliere la S-Pen, anzi devo dire qui il foro è anche leggermente più largo, vedete, perché qui nella parte destra è un po' più basso rispetto alla ringhe, quindi si utilizza meglio. Questa Ultra Hybrid arriva ad un costo su Amazon di 11,99€ mi sembra, forse qualcosina in più la pagate, mi sembra di un euro, cambia, la versione con il bumper nero, adatto sicuramente a chi ha il Note nero. Ve la smonto e passiamo subito alla prossima. Altra cover dell'Otto è una che sto utilizzando proprio in questi giorni, ve l'ho detto anche ieri e vi ho postato anche la foto su Instagram, perché mi è piaciuta davvero tanto, particolarmente rispetto alle tante altre, per diversi motivi questa cover mi è piaciuta. Anche rispetto alla ringhe, devo dire, la preferisco. Parliamo della Subcase Unicorn Beetle, non pro, ma mi sembra che sia la ibrida, la premium, comunque è quella ibrida che ha il bumper in TPU colorato, molto molto bello, abbinabilissimo al Note blu, al Note nero, anche lavanda, perché mi sembra che ci sia anche la colorazione lavanda, proprio predisposti e abbinati e pensati in abbinamento a questi nuovi Note, a queste nuove colorazioni, ma mi è piaciuta perché è molto più resistente. Oltretutto offre questo bumper che è stato colorato, è in TPU leggermente opaco ed è davvero bellissimo al tatto. Altra cosa che mi piace, che ce l'ha fino ad ora, solamente mi sembra la speaker nella top armor, abbiamo pulsanti quasi tagliati a filo, vedete? Non abbiamo pulsanti che sporgono, si riescono a distinguere perché abbiamo questa righettatura, questi tagli righettati oblivi, che ci fanno capire dove ci sono i pulsanti, anche dall'altra parte, anche per quanto riguarda il tasto BXP e il bilancio del volume, abbiamo anche qui la predisposizione per il laccetto da polso, quindi lo potete abbinare a qualsiasi altro laccetto, e poi abbiamo una cosa che mi è piaciuto, questo bordo qui dietro, leggermente più cereste, leggermente quindi blu più chiaro, che è davvero bellissimo. Subcase, il brand è solamente qui sotto, nella parte inferiore. Vi vado a rimettere i device e anche in questo caso si ripassa la pezzetta sul telefono, sulla back cover per pulirlo bene, in modo tale che andiamo a vedere l'ulofobicità di questa cover e quanto trattiene le impronte. Anche in questo caso andiamo a lasciare un po' di impronte sul telefono e andiamo a vederlo in controluce. Vedete? Adesso non so se si riesce a vedere bene dalla videocamera, ma questa cover è quella che trattiene le impronte anche meno di rispetto ai dati due modelli. Un po' poi si va a camuffare con questo blu, con questa sua cover che poi non è del tutto trasparente, ma a luce del sole, in controluce, si vede che è leggermente puntinata. Non si vedono così esageratamente i puntini come si sono viste o si vedevano anche su altre serie che hanno lo stesso tipo di back cover posteriore, vuol dire che non sono del tutto lucide, però devo dire che si comporta molto molto bene e mi piace veramente tanto. Guardate quanto è bello questo bordo leggermente celeste sul note blu. Chiaramente non sto più a dirvi che su tutte le cover, essendo molto sottili, molto leggeri, molto flessibili. Il retro della fotocamera non dà un tipo di problema e anche il foro per utilizzare i sensori di impronte digitali non dà un tipo di problema. Lo utilizziamo senza problemi, veramente molto molto veloce. In questo caso abbiamo un bordo anche più alto rispetto agli altri due modelli, guardate qui che è bordo, quindi massima copertura. E poi abbiamo questo bumper in TPU davvero bellissimo attacco e con dei pulsanti che sono molto molto morbidi da stringere e sono anche più facili da cercare, con tutto che sono allivellati piatti, quindi non abbiamo sporgenze, ma sono talmente tanto grandi, talmente tanto ampi che sono molto più comodi da spingere e molto più facili da trovare. Nella parte inferiore abbiamo i classici fori, qui non può essere utilizzata purtroppo la penna USB perché non tanto per l'altezza ma quanto per la larghezza e per lo spessore le penne USB OTG non riescono ad arrivare fino in fondo, mentre ne sia un tipo di problema per estrarre la penna da S Pen. Quindi una cover promossa secondo me a pieni voti che la preferisco, è una delle mie preferite attualmente nel lotto di queste cover trasparenti. Davvero un bellissimo prodotto. Anche questo qui con il modello precedente la possiamo trovare su Amazon a 11,99€. Diamo che i prezzi sono un po' tutti allineati, a parte un paio di modelli che adesso vi dirò quali, che hanno i prezzi un po' più alti di queste, andiamo a maggior parte di caso su queste trasparenti e per i prezzi molto molto contenuti. Passiamo al prossimo modello e parliamo del primo modello della VRS Design, anche perché ne abbiamo ben due. Questa qui mi sembra che si chiami la Single Fit. Ve l'ho portata e ve l'ho voluta inserire in questa recensione fra le cover perché mi è piaciuta per alcuni fattori. Prima fra tutte è l'impossibilità di andare a vedere le impronte. Questa cover protegge e anche, diciamo che maschera totalmente le impronte delle mani che lasciamo. Non trattene le impronte perché, avendo questa ziglinatura verticale, le va a nascondere perfettamente. Guardate, non si va mai a macchiare e quindi non si va mai a sporcare. Abbiamo il brand della mia solamente qui sotto dall'azienda VRS Design. Questa qui l'abbiamo anche in colorazione tutta nera in TPU e poi abbiamo un cordo totalmente trasparente. Tutto che gira intorno. Foro della SPN che si va a prendere senza problemi, molto molto basso, quindi si estrae da un lato senza alcun tipo di problema. I puzzanti laterali si spingono benissimo, quindi anche sotto questo punto di vista promossa. E abbiamo un bordo però che non è tanto alto, quindi attenzione, anzi devo dire che forse dell'otto, questa qui è quella che ha i bordi più bassi, quindi non abbiamo una grande protezione per la parte anteriore. Specialmente se avete il vetro davanti, vedete come va quasi a toccare perfino prima il bordo rispetto, perfino quasi il vetro rispetto al bordo. Questa cover la possiamo trovare su Amazon con un prezzo di circa 10€ se non sbaglio, anche forse qualcosina meno. Non mi ricordo se sta intorno ai 9€ o anche va a sferare leggermente 10€. Comunque però sono prezzi molto contenuti. Mi piace da una parte questo back cover con questa striatura verticale, però dall'altra chiaramente non abbiamo la pulizia estetica che abbiamo con le altre serie che sono totalmente trasparenti. Ve la smonto e passiamo subito al prossimo modello. L'altro modello in questione, passiamo sempre ad un altro modello invece della VRS Design, che mi è piaciuto invece per altri motivi. Allora, prima tra tutte, anche qui abbiamo una proporzione che può essere abbinata ai device. La VRS Design ha creato perfino la variante marrone metallizzata, che può essere abbinata al Note 9 marrone, che purtroppo ancora in Italia non è commercializzato. Io ve l'ho fatto vedere un post su Facebook perché l'avevo preso all'IFA di Berlino per caso nello stand Samsung. Mi è piaciuto oltre che per questo motivo, ma perché abbiamo su questa serie, cosa che non abbiamo sulle altre, ma ce l'abbiamo solamente su un modello successivo che vi farò vedere dopo di questa, un bumper che non è in tipo come la subcase, ma bensì è totalmente rastreimato. Ha una texture che sembrano, non so se siano dei pallini, delle piccole tacchettine che fuori escono, che quindi danno quel senso di zignatura, ma anche di bordo leggermente ruvido, che favorisce veramente tanto il grip. Questa qui è una cosa che devo dire, ho apprezzato tanto di questa cover. Ho apprezzato sia questo, ma anche il fatto che non trattiene tanto le impronte neanche questo modello. Adesso ve lo faccio vedere con il Note inserito. Vedete come una volta pulita, anzi ve la voluto pulire anche internamente questa perché non l'ho fatto, così facciamo la prova tutte le prove uguali su tutte le cover. Ah, un'altra cosa per esempio che mi è piaciuta di questo modello, perché adesso ho notato quando lo stavo volendo, che mi ero scordato, è che l'interno è totalmente ruvido. Sentite. Vedete come non è liscio e questo qui cambia molto rispetto agli altri modelli perché non abbiamo mai, non può capitare mai, che abbiamo quel fastidioso problema in cui la cover si attacca e si va a appiccicare alla back cover del telefono e crea quel fastidioso effetto un po' macchia, chiazza quella bolla d'aria che sembra quasi un difetto o sembra quasi che noi abbiamo macchiato la cover. Quindi davvero molto brutto. In questo caso non si va mai a formare, guardate, anche quando vado a spingere non si va mai ad attaccare. Però questo comporta che in punto luce si vedono alcuni piccoli puntini in leggera trasparenza. Una cover che mi è piaciuta anche per il fatto perché è una delle più resistenti dell'otto, dato che abbiamo un bumper intorno non solo zigrinato, quindi leggermente ruvido, che favorisce la presa del grip, ma anche molto più spesso. Rispetto alle altre, quella che allarga e va anche un po' a incirciottire e a espessire il device perché è quella un po' più robusta. Ce l'abbiamo in diverse colorazioni come ho detto prima, non ce l'abbiamo solamente blu o marrone, ma mi sembra che l'abbiamo anche nera e in alte colorazioni e vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Per quanto riguarda la parte all'anteriore, anche qui un po' come il precedente modello, la VRS Design non fa bordi molto alti e quindi diciamo che dovete stare attenti perché vanno quasi a filo con il vetro temperato. Se non avete il vetro lo va a proteggere, però comunque sono bordi molto molto sottili, guardate qui che differenza che c'è, lo scalino è molto basso. Anche qui, anche se non ve l'ho detto, i pulsanti spingono benissimo perché sono molto molto morbidi in qualsiasi tipo di caso. Quindi ottima sotto questo punto di vista, cambia un po' l'aspetto, cambia un po' il design e si va anche un po' ad appesantire il device rispetto alle altre. E poi fatemi sapere voi che cosa ne pensate e quale preferite. Vi smonto questo e passiamo subito alle ultime due. Passiamo ad un'altra cover, anche in questo caso è la prima volta che la provo e mi è piaciuta per diversi aspetti. Anche questo modello, anche perché ognuna di queste cover mi è piaciuta per qualche sua particolare caratteristica, feature, ma anche per il design. Questa qui parliamo della cover che vi ho fatto vedere anche l'altro giorno nella recensione della Whites on Dawn Glass e parliamo della cover della Catalyst. La Catalyst è un'azienda di cui ho provato solamente alcune cover esistenti all'acqua e a polvere per l'iPhone, ma non ho mai avuto modo prima di questo modello di provare case per altri device, in primo in che di Samsung. Ve lo fate a mente perché questa qui ha una caratteristica che mi è piaciuta particolarmente rispetto a tante altre, che abbiamo un bordo che non è trasparente, non è colorato, ma è opaco. Guardate quanto è bello questo bordo leggermente opaco. Si va abbinare benissimo a qualsiasi tipo di colorazione, che voi abbiate un Note 9, nero, blu, lavanda, marrone, comunque si abbina. Poi non si ingiallisce e non si sporca nemmeno tanto. I pulsanti qui rispetto a tanti altri sono zilinati, sia il pulsante di accensione che il pulsante Bixby, ma perfino sono zilinati i pulsanti del volume. Una cover che mi è piaciuta anche perché è una di quelle che trattiene anche qui poco le impronte, anche se lascia intravedere quella sua maglia leggermente puntinata che abbiamo all'interno del case trasparente, perché non è totalmente trasparente, non so se si può vedere adesso dalla videocamera, ma lascia intravedere quel puntinato leggero che abbiamo anche su alcuni modelli. Ce l'avevamo anche sulla VRS Design e mi sembra anche sulla prossima che vi faccio vedere. Comunque un modello molto interessante. L'unico neo di questa cover che ho trovato è che abbiamo la S Pen che non si va a tirare fuori agevolmente. È un po' difficile perché vedete non c'è spazio, c'è spazio solamente per mettere il dito e si fa fatica un po' ad andare a spingere la S Pen. Se non avete il dito sottile fate fatica e questo qui forse è l'unico difetto che rimprovera questa cover e che durante l'utilizzo quotidiano, in particolar modo con il Note, diventa un po' scomodo. Se no per il resto ragazzi è davvero una gran bella cover, anche perché è molto resistente, è molto bella da tenere in mano, questo suo bordo non è totalmente ruido, è leggermente liscio, però comunque non lascia scivolare il device. Abbiamo i bordi che sono abbastanza alti, diciamo che sono una via di mezzo leggermente più alti delle VRS Designer, però diciamo che non vincono fra le altre per l'altezza, perché comunque sono abbastanza contenuti. Però una di quelle cover è che i puzzanti sono davvero molto molto morbidi. Questa qui la potete trovare ad un prezzo, mi sembra che sia a giri intorno ai 15 o ai 19€, è una di quelle che ha il prezzo leggermente più alto, comunque trovate tutti i link qui sotto. Ve la smonto e passiamo subito all'ultimo modello. L'ultimo modello dell'otto è forse quella un po' più particolare e non è una cover totalmente trasparente. Parliamo della Presidio Spec Classic, la Clear. Ve la vado a pulire anche internamente e purtroppo qui mi è capitato che durante la prova che avevo fatto precedentemente mi sei andato a graffiare, vedete qui abbiamo questo graffio, ho scoperto che questa cover se andate a provare con il dito a graffiarla all'interno perché è leggermente ruvita, non è liscia, si va a graffiare e i segni poi non si tolgono. Non so se si riesce a vedere questo graffio, vedete questo qui. Questo qui diciamo che è l'unico difetto, l'unico neo che ho trovato in questa cover, oltre al fatto che non è trasparente ma questo qui comporta il fatto che non va a trattenere tanto le impronte, non si va tanto a macchiare e va a nascondere un po' anche lo sporco del telefono. Diciamo che è una cover fatta principalmente per chi non cerca una cover semi trasparente ma non del tutto e per chi soprattutto cerca una cover molto resistente perché seppur non del tutto trasparente come le altre è la più resistente dell'otto perché abbiamo il classico sistema cuscinitario interno che presenta la spec per tutte e poi le altre cover, ce l'abbiamo anche su questo modello. Anche se non si vede perché è totalmente trasparente, abbiamo solamente il brand qui in trasparenza dall'azienda ma abbiamo questo sistema di assorbimento degli urti, abbiamo tutte e quattro le angoli rinforzati, cosa che non abbiamo sugli altri modelli così tanto rinforzati e abbiamo poi un grip che è molto molto buono, diciamo che favorisce veramente tanto la presa perché riesce a tenersi in mano molto molto bene, è davvero molto solida come cover, è la più resistente dell'otto specialmente in particolar modo per gli urti e per le cadute. Si spingono benissimo i pulsanti anche se non sono tanto morbidi quanto le altre ma sono leggermente un po' più duretti, soprattutto questi qui del Wixby, ma è proprio un fattore perché anche i pulsanti sono più spessi delle altre cover e offrono una maggiore resistenza agli urti e alle cadute. Questa qui se da un lato l'apprezzo, dall'altro purtroppo durante l'utilizzo quotidiano un po' si fa sentire. I bordi qui sicuramente ce li abbiamo molto alti, vedete, sono decisamente più alti delle altre cover e quindi massima protezione anche per quanto riguarda la parte anteriore. Nulla da dire su questa cover se non per il fatto che rispetto alle altre non è, come vi dicevo, totalmente trasparente, trattiene un po' le impronte ma lega muffa essendo un po' opaca e va a trattenere i graffi, si va a rigare all'interno. Qui sopra solo abbiamo il brand dell'azienda. Poi comunque è una buona cover, poi oltretutto la spec produce davvero degli ottimi prodotti. Ragazzi, anche per questa recensione è tutto. Io concludo qui anche questo video, fatemi sapere quale preferite di queste cover. Io non vi nascondo che le mie preferite sono la Sapcase per ora e la Catalyst. La Link è anche, l'ho apprezzata tanto, però dovendo scegliere sono i due modelli questi qui che preferisco fra questo lotto. Se avete altre cover di qualità che sono sempre trasparenti, slim, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io provvederò a fammene mandare oppure ad acquistarle, così le andiamo a vedere insieme. Se vi è piaciuto questo video, come al solito ragazzi, lasciate un bel like, mi fa sempre molto piacere. Noi ci vediamo alla prossima video recensione, mi raccomando con qualsiasi altra informazione, dettaglio, caratteristica, se avete qualsiasi altra domanda chiedetemelo qui sotto nei commenti, oppure mi potete contattare sempre tramite Instagram. E io vi ricordo prima di finire di iscrivervi qui al canale YouTube, accedete la campanella delle notifiche qui sotto, in modo tale che sapete sempre quando è stato caricato un nuovo video, e iscrivetevi anche al canale di Instagram, perché è un canale che porto davvero tanto avanti quotidianamente, dove mi potete contattare per chiedermi qualsiasi informazione anche in privato, e dove carico foto, live, video, oppure storie di prodotti, di eventi a cui partecipo, ma anche di prodotti che mi arriva in un tema prima, che non riesca a recensire subito qui sul canale YouTube. Quindi, detto questo, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Da Dami Spiaggia, per Giorgio, buona giornata a tutti e grazie ancora.